Arancia rossa di Sicilia, un prodotto naturale e genuino dalle molteplici qualità energetiche e salutistiche, il cui consumo è un tocca sana per il nostro organismo. FURONO GLI ARABI Furono gli arabi ad introdurre l'arancia in Sicilia intorno al X secolo d.C., dove vennero impiantati i cosiddetti giardini, termine utilizzato tutt'oggi ed evocativo della funzione ornamentale che inizialmente ebbero gli agrumeti nella nostra isola. Lo straordinario microclima della Piana di Catania e di terreni particolarmente fertili del territorio sovrastato dal vulcano Etna, rendono tutta la zona estremamente favorevole alla crescita di queste coltivazioni. L'elevata escursione termica delle nostre terre determina un accumulo negli agrumi degli antociani, pigmenti che conferiscono il caratteristico colore rosso alla polpa e alla buccia e sono utili anche dal punto di vista salutare. Dal 1996, l'arancia rossa di Sicilia è riconosciuta dalla Comunità Economica Europea come prodotto IGP, marchio di qualità attribuito ai prodotti la cui origine avviene in un'area geografica determinata. La garanzia di qualità ed unicità territoriale consentono all'arancia siciliana di distinguersi dalle altre tipologie di arance. Le principali varietà delle arance rosse sono tarocco, moro e sanguinello. Esse si differenziano per il calendario di maturazione che in generale va da dicembre ad aprile e la persistenza del frutto sulla pianta nonché per il colore e le screziature della buccia e della polpa dal giallo arancia a rosso con sfumature più o meno rosate. L'arancia rossa è considerata il frutto della salute per tutte le sue proprietà. È ricca di vitamina C che rafforza le difese immunitarie, ha proprietà anti-infiammatorie, antiossidanti e protegge il sistema cardiovascolare. Contiene inoltre una buona quantità di vitamine A che rafforzano il sistema visivo, vitamine B1 e B2 per migliorare il sistema respiratorio e la digestione, vitamine PP che fortificano e tonificano i vasi sanguigni e facilitano l'assorbimento del ferro agendo sulle membrane cellulare. Infine, il flavonone e i numerosi antiossidanti presenti nel frutto proteggono l'organismo dai tumori dell'apparato intestinale e ostacolano le forme degenerative tumorali. L'arancia dà il meglio di sé anche spremuta. Il suo succo fresco è complice gustoso nella tutela della nostra salute. Dà sapore ad una pausa, energia naturale durante lo sport o lo studio, benessere in ogni circostanza. Le arance rosse sono spesso usate in cucina per realizzare dei piatti sani, gustosi ed estremamente siciliani. Il frutto, infatti, è ricco di fibre, ha un'elevata digeribilità e un modesto apporto calorico. Ecco perché il suo consumo è largamente promosso in tutte le diete e nell'ottica di una buona alimentazione. Dal salato al dolce, l'arancia siciliana si presta ad essere l'ingrediente con cui realizzare svariati piatti di qualità. Il consumo dell'arancia rossa di Sicilia, unica per caratteristiche, è fondamentale a partire dall'infanzia fino all'età adulta grazie al suo apporto di vitamine, minerali e fibre. Il suo valore si basa su elementi oggettivi legati alla ricerca medica. Il forte legame con il territorio di riferimento rende l'arancia rossa un simbolo di naturalezza e bontà della terra di Sicilia.